Sì, sono venuto a piedi, a salutare. A piedi, a piedi. A gampar che c'è a roma, a trabato. Come stai? Abbene, a pene. Buonasera. 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 Come ha giocato, ha giocato. Come ha giocato? Tre gol. Con tre trenini. Tre gol, tre trenini. Mi stiense di essere arrivato tanto, però, anche perché è un cittadino onorario, quindi lo devo salutare con particolare attenzione. Ma quando riparti? Adesso, guarda, il volo adesso è... Sei un grande. Ma dalle parti tue hanno questo rapporto con te? Non credo? Oh sì. Devo andare a fare l'uomo. Devo andare a fare l'uomo. Però, quando poi ci si ritrova dopo tanto tempo così, ovviamente, si isprime ancora più un po'. Ma tu stai facendo l'imprenditore adesso? Ma vero. No, cioè... Faccio l'estituto. Grazie. Grazie. Ma devi... Ti devi inventare l'uomo. Che cosa mi devi inventare? Non lo so, era la conseguenza che volevo parlare. Non puoi ripartire la chiamata di voi. Non puoi ripartire la chiamata, non puoi andare a parlare. Giorgi... Comunque, si chiama ancora in forma strepitosa, eh. Non ha messo più di grazia. Adesso perché mi vieni col maglione, perché se no... Ciao. Arrivederci a tutti, eh. Complimenti per l'idea. Grazie. Sono delle persone che ovviamente non dimenticheranno mai. Sotto casa di mia sorella, su un muro, dicevo che sotto casa di mia sorella, in via Carrumbo, c'è scherzo, via Igor Pronto. Sì, ma via, nel senso. Sotto casa di mia sorella, è stata messa. Sotto casa di mia sorella è relativa, è stata messa? Se non si lancerà here, vabbia sì, vabbio è ritrovato. Grazie a tutti.